Gli antenati ci guideranno. Tirata in vista! Gli antenati! lo vedete ora ricarico ora ricarico sto ricaricando non possono batterci il nemico ha inviato degli esploratori guardatevi le spalle ricarico ricarico mirata là oh 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 Non restate uccidere! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Devo ricaricare! Esplora voi i nemici in volo! Oggi creperanno! Sto ricaricando! 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 Non perdiamo lì di vista! I nostri esploratori sono attivi! Sta arrivando il gas velenoso nemico! Non perdiamo lì, non perdiamo lì! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Un buon guerriero non muore così. Mi lasciate andare? Combatterai ancora. Avanti! Non male! Anche tu, non male. Un degno avversario.